E' stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta il giovane centauro rimasto gravemente ferito ieri in un incidente avvenuto a Fontanelle nei pressi della motorizzazione civile. Il giovane AM, queste le sue iniziali di 22 anni, ha riportato una grave lesione vascolare che ha comportato il trasferimento nello specifico reparto del nosocomio nisseno, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne Grigentino si trovava a bordo della sua Kawasaki quando per cause ancora sconosciute si è scontrato con una Ford Fiesta alla cui guida si trovava una donna. Il giovane è stato sbalzato in aria ed è finito tra i cassettoni dell'immondizia posizionati sul ciglio della strada. Illesa invece la conducente dell'autovettura, gli inquirenti sono al lavoro per stabilire le cause che hanno provocato l'incidente stradale.